Il primo premio Flipp di Colli, il supporto dell'independence of the Seas, il vincitore. Non sono vincitore, sono il comandante. De Martini! De Martini, il primo premio è il primo premio Flipp di Colli. De Martini, il primo premio Flipp di Colli, il primo premio Flipp di Colli. Valentina Vitale, campionesta italiana, vince anche un buon premio Flipp di Colli, il primo premio Flipp di Colli. Grazie! 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 Grazie!